Adesso abbiamo un momento eccellente, è un'eccellenza del nostro sud, lui è lucano ma ormai sono tanti anni che vive fuori e che veste anche lui personaggi dello spettacolo, del mondo del cinema, personaggi davvero importanti. Lui è Michele Miglioni, uno stilista di alta moda dal tratto lussuoso e ricercato in omaggio all'antica civiltà della magna grecia, interpreta il mondo mitologico vestendo le divinità greche con gusto ed eleganza e in questa collezione mette insieme romanticismo e dramma sottolineando una femminilità senza tempo. Ama il colore del cuore, del desiderio, della sensualità, della vita, il rosso, per lui lusso è una splendida ossessione, Michele Miglioni coapre il suo primo atelier a Potenza nel 1989 avendo imparato molto dal padre Sarto affermato a Milano, nel 2003 debutta all'estero con una sfilata a Bruxelles insieme a grandi nomi della scena internazionale, nel 2007 riceve un ambito premio in Cina e poi ancora partecipa ai giochi olimpici e rappresenta l'Italia con la sua moda, è il momento di Michele Miglionico. Grazie a tutti! 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 a tutti!